Buongiorno, sono Luigi Ciuffreda, direttore del corso triennale di Interior Designer qui in Raffos Milano. L'Interior Designer è una figura complessa, in grado di tradurre i bisogni e le esigenze di una committenza in spazi, spazi di diversa complessità. Parliamo di spazi legati al mondo domestico, al mondo della ristorazione, al mondo dell'entertainment, fino ad arrivare anche agli spazi legati al metaverso, a tutto quello che fa parte dello spazio virtuale. Qui in Raffos, durante il triennio, diamo agli studenti tutti gli strumenti necessari per affrontare progetti di diversa complessità. Quindi diamo un supporto legato a corsi che parlano di linguaggi, della progettazione, di cultura del progetto, fino ad arrivare a metodi molto avanzati anche di presentazione del progetto. Lo studente quindi sarà in grado, dopo i tre anni, di riuscire ad affrontare tutti questi diversi tipi di progetto.